I baschi verdi del gruppo Guardia di Finanza di Salerno hanno individuato un italiano e un cittadino straniero nei pressi del lungomare Trieste del capoluogo in possesso di alcuni grammi di hashish. Altri due uomini, entrambi salernitani, sono stati presi a Piazza della Concordia in quanto detentori di alcuni grammi di hashish. Infine, le fiamme gialle hanno sottoposto anche a sequestro oltre 9 kg di tabacchi lavorati posti in vendita in un bar di mercato San Severino in assenza dell'autorizzazione prevista.